Chi sono quegli stakeholder? Il domani, il fatto quotidiano, Repubblica? E chiaramente io ho semplicemente rimesso così, insomma, per punti ho risposto, diciamo così, in questa interlocuzione con la Commissione europea, di cui però la Commissione europea non è il mio diretto interlocutore, ma chi strumentalizza quel rapporto, che tra l'altro non dice niente di particolarmente nuovo rispetto agli anni precedenti, anche questo varrebbe la pena di ricordare. Ho ricordato, ad esempio, che quando questi stakeholder imputano al governo italiano la governance della RAI, le regole di determinazione della governance della RAI, signori, la governance della RAI è definita da una legge del 2015 che ha fatto il governo Renzi e che è stata in vigore in tutti questi anni e quindi difficilmente si può imputare all'attuale governo, esattamente come quando questi stakeholder dicono che ci sono delle intimidazioni alla stampa, perché ci sono degli esponenti politici che querelano per diffamazione alcuni giornalisti, ma non mi pare che in Italia vi sia una regola che dice che se tu hai una tessera, diciamo, da giornalista, che ho anche io in tasca, puoi liberamente diffamare qualcuno. E dire che gli esponenti politici, se avviano una causa per diffamazione, stanno facendo azioni di intimidazione, vuol dire non avere neanche rispetto dell'indipendenza dei giudici, viene ad esempio preso in considerazione anche alcune querele che ho fatto io, vi segnalo che le ho fatte quando ero all'opposizione, non le ho fatte quando ero al governo, quindi voglio dire, capisco, è il tentativo di strumentalizzare...